Molto spesso, in particolar modo, i ragazzi più piccoli diventano i principali censori, in senso virtuoso, dei propri genitori o dei fratelli più grandi per i comportamenti alla guida. Noi crediamo che condividendo le regole di sicurezza stradale si possa creare in futuro gli automobilisti più consapevoli. Studenti a scuola di sicurezza stradale. Si tratta dell'incontro organizzato dall'AC di Arezzo in collaborazione con la Polizia Municipale e il Liceo Artistico Coreutico Scientifico Internazionale annessi al convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Abbiamo più di 250 ragazzi che partecipano a questo corso vero e proprio, dove cerchiamo in maniera assolutamente coinvolgente di fare in modo di non imporre la cultura della sicurezza stradale, ma di condividere assieme a loro la cultura della sicurezza stradale. Già far capire al conducente giovanissimo di primo conseguimento, di prima patente di guida, chi ha la guida ci si mette in condizioni di sicurezza, quindi senza aver bevuto o aver usato stupefacenti, è già un risultato e quindi questo è un deterrente, deve essere un deterrente come insegnamento non solo per i giovani ma per tutti i conducenti di veicoli. Le classi quinte del Liceo Artistico sono state così coinvolte in un incontro formativo di educazione stradale dal tema la sicurezza del veicolo e della strada. Il compito della scuola è non solo insegnare l'italiano, la matematica o disciplina importante come i nostri ragazzi dei nostri licei Piero della Francesca, ma insegnare, aiutarli a diventare dei cittadini, dei cittadini responsabili e l'educazione stradale è fondamentale perché non solo è formativa a 360 gradi, ma mette in condizioni di vivere in sicurezza nelle città perché abbiamo dei cittadini responsabili che guidano auto, motorini.